no uomo soltanto si è preso il mio fucile un altro io cazzo tecnici ho ancora sei colpi mi vindo a premer q perchè eh batte tre cazzo andato me lo sento a sparare ma sta sparando io lo sento anch'io lo sento ma non lo vedo sarà il cecchino che ha preso la pistola questo no moco che d'arma non so che arma abbia oggi è un altro sul mio corpo c'è uno sul mio corpo sul mio corpo eh e moco ha finito i colpi ah ho anche un'altra pistola aspetta se ne è andato se ne è andato però eh è andato via dal mio corpo quindi sta tipo dietro sempre il palazzo un altro acceso grande vabbè 10 colpi dell'am16 il blaster vaffanculo e il mosberg c'è la tachicardia allora io dove sono arrivato qui? stavo sperando verso dove sono morto lo ho sparato io e forse l'ho ucciso siete quello all'angolo? si no come all'angolo no ce l'ho ucciso porca puttana che cazzo ho combinato che cazzo ho combinato tutto frapsato tutto frapsato commento fuori campo oh c'è uno dietro l'angolo no no vabbè comunque l'ho visto non so ma non c'è uno cicchino si 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 uno si ma è che quello che è sceso con il cicchino eh no a cazzarmi un tre scelmo che ok ah no aspetta ah ok no non l'arresti mai ammattato ah no no io avevo solo una pistola no 22 pistole adesso devo però andarmene no velocemente di più no dove sta andando via da qua ma sta scherzando eh ma dove vai non ne ho idea via da qua aspetta che vedo rinasco a casa rinasco vicino ecco bravo dimmi dove rinasci che io sono praticamente a io sono quasi vicino a il ranch no oggi serve in ordine di numero che ficata eh visto eh te lo stavo dicendo cazzo che taglia da 79 giusto eh devo andarmene devo andarmene oh l'occhio che incrucime è magari non mi sparare oh non capisco se lo sono agitato si no ma si lord va in modalità berserk berserk non capisce più di nulla ma poi c'è comunque tra i dati sono tre io ti ho accaduto tra l'altra dove siete voi adesso non so non so dove devo andare ma io sto a campo ossidica no mi sono alzata è andato verso il gioco della collina è qui a terra sei a terra tu sono io sono io sei tu oh ti ero io ma porca vedete che mi sei buttata a terra ma allora eri tu questo qui no ce n'era un'altra adesso arriva state attenti madonna ma dicelo che stai vicino a noi eh no non viverebbe io pensavo fosse dietro di noi no davanti no no ero davanti io ho visto uno davanti a noi ed è e l'ho visto anch'io è stata attenta che adesso arriva c'ho un fucile ma nel garage non hai i medicinali nel garage c'è una cosa di patatine si è presa presa dai tu tanti a terra dell'acqua no 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 andiamo via andiamo via una strada dove hai deciso gli zonbk vieni io sono l'aereo tutto via giù tutto andiamo su sulla collina un attimo di due giorni comunque ragazzi in aeroporto sicuramente beccheremo uno zaino massimo la qualità colivabilità tutto lo stronti sto pezzo di merda vado fuori a capo il 300 z non mi preoccupo di tanto non so che è assolutamente tre però un tele è gratuito per 2 0 il troppo di tendine ok di 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 13 14 15 15 14 12 14 15 15 15 15 16 15 17 17 però cosa un m16 come il cibo cibo per sempre pistola non riesco a prenderlo tutto il cibo mi metto qua un attimo grazie